Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un videosfogo, ve lo dico subito. Sono stufo, sono schifato, sono stanco, sono amareggiato, sono arrabbiato, perché tutto questo è inaccettabile. Tutto quello che sta venendo fuori è inaccettabile. Da fagioli a tonali a zagnolo, per arrivare adesso a zaleschi. Ragazzi, sono schifato. Ci vuole rispetto. Ci vuole rispetto per i tifosi, ci vuole rispetto per la gente che guarda il calcio, che fa sacrifici per andare allo stadio, che fa sacrifici per potersi permettere un abbonamento ad Azon o a Sky. Ci vuole rispetto per le persone che spendono i soldi per comprare le magliette di certi giocatori, di certi personaggi. Ci vuole rispetto. E io sono stufo, sono veramente stufo che ogni 3x2 venga fuori qualcosa. State portando la gente a allontanarsi dal calcio. Io sono un appassionato di calcio che, quando posso, mi vedo pure le partite del campionato turco, perché mi piace, e mi stanno facendo passare la voglia di vedere le partite. Che senso ha vedere una partita quando ti rendi conto che ci sono dei giocatori che scommettono loro stessi sul risultato di quelle partite o di altre partite? Addirittura adesso leggevo su internet, però questo non si sa ancora se è vero, ma se fosse, parliamo per ipotesi, sapete che a me non mi piace, ma oggi lo faccio, parrebbe che forse Zaleski, Zaleski, abbia scommesso sulla sua munizione nella partita contro la Salernitana. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Che poi io mi chiedo, quanto può essere pagata una munizione a Zaleski? Non è che stiamo parlando magari di un'attaccata, ma ipotizziamo proprio, facciamo una quota di due. Cosa fai? Giochi 2 milioni per vincenne 4? O giochi 3-4 milioni per vincenne 6-8? Ma hai veramente bisogno di questo? Ma hai veramente bisogno di questo? Pensa a giocare. Pensa a giocare bene che magari ti viene a cercare una squadra di Premier League e quei soldi te ne dà, o forse te ne dà anche di più. Ma di cosa stiamo parlando? Qui si è perso proprio il lume della ragione. Qui non si ragiona più. Perché poi parliamo di ludopatia, ma la ludopatia è una patologia ed è una cosa seria. Qui stiamo parlando anche di persone che fanno cose così, così, senza riflettere. Ma di cosa stiamo parlando? Buttare via una carriera? Rovinarsi una carriera per cosa? Per cosa? Cioè io continuo a pensare a fagioli, no? Io sono juventino. Continuo a pensare a fagioli. Ha fatto tutta la trafila nelle file della Juve. Stava diventando un italo dei tifosi. In lui si vedeva una possibile bandiera. Un possibile simbol, più che bandiera. Un possibile ragazzo che avrebbe comunque fatto rinascere magari la Juve. Che avrebbe avuto un buon percorso. Che di qua che di là. Alla stima dell'allenatore, alla stima dei tifosi, alla stima della società, eccetera. Sei a un passo a diventare comunque un giocatore imprescindibile per la squadra. Per cui hai fatto sacrifici tutta la tua carriera e la butti via per fare delle scommesse. Non mi interessa se scommetteva sui cammelli o sul calcio australiano. o la lotta dei galli. Non mi interessa. Non mi interessa. Come cazzo ci arrivi a quel punto? Come ci arrivi? Come puoi buttare via una vita di sacrifici? Perché comunque sono sacrifici? Il papà che ti accompagna la partita. E questo e quest'altro. Sono sacrifici? In questo modo. Com'è possibile? E come puoi mancare di rispetto? Parlo di fagioli, ma Zaleschi, Zaniolo, Tonali. Come posso? E tutti gli altri che verranno fuori. E come si può mancare di rispetto alle persone che pagano profumatamente, profumatamente per venirvi a vedere. Io ogni volta che vado a Torino ci lascio sempre 100-200 euro. E io non guadagno le cifre che guadagnano loro. Se io mi levo 200 euro o 100 euro dalla tasca, sono soldi, cazzo. E mi girano i coglioni, mi girano i coglioni. Perché poi, quando vedi certe cose in campo, avrei adesso il dubbio che dici, non è che qua, come ieri alcuni che già dicevano, facevano la battuta sui social, i meme, a Gatti per l'autogol contro Sassuolo. Eh, fagioli aveva gol più over 3,5. Cioè, ragazzi, poi vengono fuori queste robe qua, eh. E io mi chiedo come si possa permettere, come si possa permettere un giocatore di farsi rovinare la reputazione in questo modo. E poi per Giuda, nel caso di fagioli, quello che mi dà fastidio è che fagioli sa che tanto così, riferito alla Juve, collegato alla Juve, tanto così, diventa ingigantito in una maniera allucinante. E tu ti permetti, ti permetti, ma che non so di rispetto ai tifosi, nel senso proprio dell'amore che ti stavano dando, ma ti permetti ancora di metterli un'altra volta sotto i riflettori? Perché tanto lì è fagioli, sì, ma è della Juve fagioli. Cioè, ragazzi, è inaccettabile, è inaccettabile. Poi io, devo continuare a dire, è ludopatico? Benissimo, lo si aiuti, lo si aiuti. E tra tutti, probabilmente, magari anche il meno grave è quello che per meno mesi di squalifica. Però, intanto, quella marca li resterà addosso. Perché ancora io leggo di Buffon, quando Buffon scommetteva su cose su cui era possibile scommettere. E ancora lo chiamano lo scommettitore. E io divento matto. Perché poi si sentono queste cose qui. E io divento matto. Com'è possibile che Masiello, che si fece autogol per le scommesse di qua, di là, su, di giù, due anni e tornò a giocare? Non deve vedere più il campo. È severo che Zaleschi ha fatto una roba del genere, che ha scommesso sulla sua munizione. Non deve vedere più il campo, ma neanche da calcetto con gli amici. Non ci deve più entrare. Perché poi una maglietta di calcio, magari un tifoso della Roma, di Zaleschi, la paga 150 euro. Ma ci rendiamo conto? O no? O 120, o 100, quello che è. Una maglietta di fagioli, ragazzi. Io c'avevo mezzo pensato di coprare una maglietta e c'avevo anche mezzo pensato a fagioli. 150 euro. Per non vederli alla manco mai mettere. Ma di cosa parliamo? Ma ci vuole rispetto. Ci vuole rispetto per la gente che si gioca alle schedine. Ci vuole rispetto per chi fa il fantacalcio. Pensate, gente, magari mette anche una quadra di iscrizione fatta a calcio, anche importante. Pensate se uno ha perso, nel caso proprio per cui il giallo di Zaleschi magari ha perso 1000 euro. Ma in questo momento, ma come deve sentirsi? Cioè ragazzi, ci vuole rispetto. Ci vuole rispetto. Ci vuole rispetto. Punto. Poi, come sempre, le cose vanno provate. E io, come dico sempre, io sono garantista. Finché non c'è una condanna, non c'è... Va benissimo. Però il concetto, ragazzi, è il concetto. Perché può essere della Juve, può essere del Sassuolo, può essere del Mila, può essere della Salernitana, del Lecce, del Genoa, della Sampdoria, del Catania. Non me ne frega un cazzo. Io sono stufo che ciclicamente debbano venire fuori queste robe qui. E se certi giocatori non hanno valori, non hanno valori fuori, fuori dal calcio. Zagnolo è ogni 3x2 ne combina una. Ogni 3x2. Via, fuori. È un talento sprecato, è cazzi suo, e si farà furbo. Se voi a lavoro fate un errore, già faccio fatica a pensare che vi tengano. Se ne fate 10, faccio fatica a pensare che vi tengano. Iniziamo a dare un giro di vite, anche sugli stipendi. Iniziamo a ragionare un attimo. No, perché qui si sta perdendo un po' troppo la cognizione, eh, ragazzi. Lautaro 100 milioni, quell'altro 150, gli stipendi 10 milioni, 15 milioni, fai una stagione buona, 200 milioni. Real Madrid, che voleva andare a prendere Mbappé, che mancava in 6 mesi, offerta oltre 200 milioni. Il PSG, che per tenerlo, gli ha offerto pure la Torre Eiffel a momenti. Ma ragazzi, ma di che cazzo parliamo? Ma di cosa stiamo parlando? Ma qui stiamo giocando come delle lame. Io sono stufo, sono stufo, sono stufo. Poi vedo la serata delle Legend, e vedo uno come Torricelli, che faceva la fame, che lo vedo giocare quasi a 70 anni e gioca meglio. Io di Alexandro, e li vedi ancora quella voglia di giocare. Lo vedi che loro giocavano perché avevano voglia, perché si divertivano. E io divento matto, divento matto, divento matto. Rispetto, ci vuole rispetto. Ci vuole rispetto per la società, ci vuole rispetto per i tifosi, ci vuole rispetto per i compagni. Io vi racconto questo aneddoto. Mia sorella è un dottore, è medico. Qualche anno fa, Perin, il nostro Mattia Perin, andò in ospedale perché la sua compagna stava partorendo, aveva appena partorito. Perin, ovviamente raggiunse la compagna e tutto, disse di avere semplicemente mal di testa. Un dottore gli disse, se vuoi ti diamo qualcosa, perché aveva mal di testa forte. Se vuoi ti diamo qualcosa, un aspirino. Perin disse no. Disse no, 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 grazie. No. Perché? Perché evidentemente si sa che ci sono dei farmaci. Può prendere altri che non può prendere. Serietà. Serietà. E ancora giocava nel Genoa, eh. Ancora non era arrivata la Juve. Ci stava per arrivare. Dato che lui disse a mia sorella, di, ah, a Perin di venire alla Juve come al posto di Buffon, visto che Buffon tanto andrà via. Diglielo. E lui risponde con un eh, magari. Cioè, però nel senso, ragazzi, cioè, ci vuole serietà quando si fanno le cose. Io sono stufo, sono veramente stufo, ci vuole rispetto dei tifosi. Ragazzi, ci vuole rispetto dei tifosi. Perché se io gioco una schedina e butto dieci euro, dieci, mi gira il cazzo se poi non la chiudo, perché è successo qualcosa di strano, o chissà, magari perché. Non esiste, non esiste. Ci vuole rispetto dei tifosi. Ma poi, che messaggio diamo ai bambini? Ma cosa trasmettiamo ai bambini? Io sono cresciuto vedendo giocare Del Piero, sono cresciuto vedendo giocare Maldini, sono cresciuto vedendo giocare Totti, Raul, Runei, Runei, che gli avevano offerto una fracca di soldi ed è rimasto allo United, a camallarci lo United, mentre Ronaldo scappava, che se ne andava dietro i soldi, dietro le Almadride, è rimasto lì, con le palle sul tavolo. Ho detto, signori, qua è così, punto. Questi sono uomini, questi sono giocatori, questi sono esempi. Boh, basta ragazzi, chiudo, perché veramente sto... tutto il giorno che ne parlo con i miei amici e sono matto, sono matto, sono veramente matto. Sono veramente matto. A me la mancazza di rispetto verso i tifosi è una roba che mi fa incazzare, perché il tifoso perde tempo, magari anche mentre lavora per stare dietro ai biglietti, perché c'è coda. E poi magari i biglietti, quelli che costano meno, spariscono. E allora poi li coproni con quelli che costano di più e spendi i soldi per andare, poi se lì magari ti leggeri la maglietta al figlio e magari fai quello... Ma non se lo meritano! Non se lo meritano! Non se lo meritano più le società perché non vanno incontro molto spesso ai tifosi, non se lo meritano certi giocatori, non se lo meritano le certe tv perché paghi un botto e non ti offrono neanche un servizio adeguato. Ci stanno facendo allontanare dal calcio, lo dice uno che vive di calcio da quando ha... Non so, da quando cammino? Da quando capisco quello che vedo? Ecco, portavraccio, fatemi sapere la vostra. Che schifo! E ancora non è finita, ne verranno fuori altri. Che schifo, complimenti!